Buone notizie per le lavoratrici e i lavoratori del trasporto scolastico, ovvero quegli operatori precari rimasti durante la fase pandemica e nello specifico nei primi mesi del 2021 senza stipendio, ma anche senza quell'ammortizzatore sociale che invece è stato assicurato alla globalità dei lavoratori dipendenti. Lo scorso 5 maggio, rispondendo ad un'interrogazione, il Ministro del Lavoro, Andrea Orlando, ha infatti espressamente riconosciuto le ragioni della Filt CGL, assicurando la disponibilità del Ministero a individuare una soluzione normativa opportuna e ragionevole che possa garantire l'accesso agli ammortizzatori sociali, anche ai lavoratori del trasporto scolastico, in considerazione della peculiare tempistica dei relativi contratti di lavoro. Nel corso del question time alla Camera dei Deputati, il Ministro Orlando, su una interrogazione della parlamentare abruzzese Stefania Pezzopane, la quale era stata interessata dal consigliere regionale Peppe. La parlamentare ha rappresentato la problematica dei lavoratori del trasporto scolastico che in pratica non potevano accedere alla cassa integrazione. Problema che noi come Filcigielle Teramo, come Filcigielle Abruzzo e Molise abbiamo denunciato nelle settimane scorse. Ovviamente i lavoratori chiedono un intervento immediato. Il Ministro ha dato la disponibilità a rivedere, ad individuare la normativa opportuna che permetterà a questi lavoratori di poter accedere alla cassa integrazione e agli ammortizzatori sociali. Una protesta che è partita da Teramo ma non riguarda solamente Teramo? È una protesta che è partita da Teramo, che sul territorio vedeva interessato 200 lavoratori, ma se questa normativa andrà in porto vedrà beneficiare tutti i lavoratori che si trovano in questa situazione nella nostra regione ma nell'intero paese. Quindi da un piccolo territorio, da una piccola organizzazione sindacale come quella della Filcigielle Teramo è partita una protesta che vedrà beneficiare tutti i lavoratori del paese. Sull'aspetto delle difficoltà dei lavoratori, sull'aspetto dei precari soprattutto, la CGL, l'organizzazione alla quale appartengo, non abbasserà la guardia.